Tra qualche giorno ci sono le elezioni europee e in molti comuni si vota anche per le comunali. Come da sua tradizione in queste occasioni la gilda degli insegnanti forte della sua caratteristica partitica. Nelle province di Parma e Piacenza rendi conto alla categoria come si sono comportati localmente i partiti relativamente alle questioni che ci riguardano, precisando che spesso è stato ricordato alle forze politiche che i docenti della scuola statale tra Parma e Piacenza costituiscono una. Massa di circa 10.300 cittadini elettori, senza contare le rispettive famiglie. Il Partito Democratico, a Piacenza, tramite le sue esponenti che governano la provincia nonostante reiterate sollecitazioni espresse a tutti i livelli, ritiene che le legittime rappresentanze dei docenti non siano un interlocutore. Lo hanno di fatto esplicato in merito all'allocazione nei container di numerose classi dei licei Respighi e Colombini. Lo stesso a Parma e Pidi tramite i suoi esponenti che governano il comune della città capoluogo non ha ritenuto un interlocutore utile le legittime. Rappresentanze dei docenti, lo spiacevole comportamento è stato chiaro in relazione al temporaneo trasloco dell'Istituto Comprensivo Micheli, per quanto riguarda il centrodestra. In particolare Lega e Fratelli d'Italia, nonostante molti suoi esponenti, non tutti, si siano mostrati disponibili all'ascolto. Dopo aver assunto il governo della nazione, ci aspettavamo da loro l'attuazione di uno spoil system che oramai dal 2015 chiediamo per normalizzare la gestione e l'organizzazione dei dipendenti che in questo territorio svolgono la mansione di dirigente scolastico. Per adesso gli esponenti di centrodestra hanno scelto la continuità con il passato. Le parlamentari locali della Lega si sono adoperate per sollecitare la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato dei docenti aggrediti e minacciati, ma nel territorio le precise disposizioni emesse in merito dal ministro, della Lega, vengono esplicitamente disattese e in ultimo riteniamo utile rappresentare che l'attuale dirigente. Dell'ufficio scolastico, ex provveditorato, nominato all'epoca del governo di centro-sinistra presieduto da Renzi, oggi risulta candidato come aspirante consigliere comunale in una lista civica della coalizione di centrodestra alle comunali di Reggio Emilia. Fa riflettere anche il fatto che i partiti politici, quelli che hanno governato il settore nel recente passato e quelli attualmente al governo, in molti comuni del territorio non hanno nemmeno la forza minima per presentare liste con i propri simboli.